Ci troviamo nella cornice ideale per iniziare a pensare concretamente alla propria salute, un luogo da cui intraprendere un nuovo percorso di benessere e longevità, il prestigioso Hotel Campischi di Masara del Vallo, un'oasi di pace e serenità, un ambiente esclusivo in cui da oggi è possibile conoscere e abbracciare un nuovo stile di vita per il proprio benessere. Tutto questo grazie al percorso Fly Life Longevity. Per la prima volta in Sicilia un nuovo e personalizzato metodo che fa della prevenzione la vera cura. Un pacchetto completo per ritrovare i giusti equilibri, la serenità per sé e le persone che si amano, visita specialistica di medicina predittiva, consulenza nutrizionale, trattamenti corpo detossinanti e snellenti, drenanti e tanto altro. Ma la vera innovazione del programma Fly Life Longevity sta nella possibilità di effettuare in modo semplice un test genetico, unico strumento diagnostico per conoscere a fondo se stessi, attraverso tutte le informazioni che ci fornisce il nostro DNA. Basterà infatti far ruotare un tampone salivale all'interno della bocca per prelevare un campione di DNA che sarà analizzato dai laboratori del gruppo Locorotondo, un'ulteriore garanzia di serietà e competenza. Gli esami clinici tradizionali combinati con l'analisi del DNA rappresentano il prédunion di tutti i programmi Fly Life Longevity dove scienza e tecnologia sono al servizio della medicina predittiva e preventiva per una reale qualità della vita che ci permetta di vivere meglio e più a lungo. E tutto questo è davvero a portata di mano! Basta scegliere tre pacchetti Fly Life Longevity offerti dal Campischi di Mazzara del Vallo. Un'intera settimana, oppure uno, tre o quattro giorni, al termine dei quali potrete ottenere il rapporto finale sul vostro percorso di salute e benessere. Il Longevity Blueprint, con tutte le indicazioni educazionali e terapeutiche per mantenervi sani e longevi. Per maggiori e più dettagliate informazioni, visitate il sito o chiamate il numero in sovraimpressione. È il momento di ripartire. Io riparto da me. Potete farlo anche voi, grazie a Fly Life Longevity, in Sicilia al Campischi Hotel Giardino di Costanza, a Mazzara del Vallo. Il luogo ideale per ritrovarsi. Da... Il luogo ideale perHDaro Sampичchi di Salto Giardino di Costanza, a Mazzara del Vallo. Il luogo ideale per Hatariteria di Montenegro mistale re concentrati. 透過 dadsale riservare. Per maggiori e più dettagliare. Sarola del Vallo. Interomnig짝. Segg. boll Platform. Il luogo ideale fattyfaat idi che facquez. hydricenne il rucake évidemment naj2020. rage.